Sì che ti riesca a dire sarà un po' spaccoso è un po' spaccato è un po' spaccato ok un po' spaccato è un po' spaccato mi fa quanto sto io se non è vicenda si non è calda asso che poi si orienta anche il video, per esempio in salita dovresti orientarlo in modo tale da riuscire ad avere, come in questo caso, sempre una visione è complicato, bisogna stare fermo e non fare nient'altro andiamo avanti poi, deve stare tremendo A presto. la mia sua impressione su questa cascata freddo, è freddo oggi ma c'era l'abbigliamento di un certo livello grazie a tutti